Io mi chiamo Fabio Gerdi e ho il piacere di avere qui Andrea e Barbara mi sono stati diciamo affidati via temporanea i poteri di un ufficiale dello Stato Civile e in forma ufficiale mi chiamo che, ditemi ragazzi se sono giusti i dati in mio possesso, che lo sposo Andrea Casarella Sì Beh no, peraltro, perdonami, lo sposo ogni tanto si distrarrà ma perché ha un'esigenza che ora non posso dirti qual è ma poi svelerò, poi alla fine del rito sveleremo appena rotto, no ma quello che ha, quello di cui soffre è ancora peggio lo sposo Andrea Casarella è nato a dire, devo dire, molto preciso hanno inviato le loro risposte, non in una mail unica ma in 78 mail diverse così poi questo è stato riuscito un po' a ricomporre a ricomporre un po' il puzzle della vostra vita, la vostra vita in compia Io Andrea, prendo te Barbara come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Io Barbara, prendo te Andrea come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Per ricevervi questo anello simbolo di fedeltà e amore Grazie